Ragazzi prima di cominciare la puntata sappiate che giorno 8 settembre saremo al centro commerciale Campania Marcianise in provincia di Caserta dalle 15 alle 19 presso il GameStop all'interno del centro commerciale Campania Marcianise in provincia di Caserta Mi raccomando non mancate adesso cominciamo subito Menomale che non hai sbagliato perché se sbagliavi dopo tutto quello che ho detto ti fila Cominciamo Amici di Player Inside bentornati alle uscite gratis di questo mese nonostante ci troviamo a New York Esatto abbiamo pensato che quattro giorni di vacanza relativa non dovessero distrarci dai nostri doveri di informatori e divulgatori Nonostante potessimo correre il rischio di risultare odiosi ed è così in effetti perché molti di voi avete detto ma scusate Dovreste sbattervi nel cazzo e invece no e invece no siamo qui siamo qui a fare il nostro dovere Cominciamo con quale service Raiden? Con quale service? Con PlayStation Plus Perché sono stata un po' influenzata dal clima di New York PlayStation Plus esatto vediamo questo mese ragazzi offre Destiny 2 Esatto esatto diciamo che Destiny 2 viene definito uno sparatutto a mondo condiviso Beh poche chiacchiere ragazzi noi non abbiamo giocato Destiny 2 Cioè non abbiamo ancora approfondito io devo assolutamente recuperarlo Perché il primo mi è piaciuto in generale è stato accolto abbastanza bene quindi noi ve lo consigliamo Sì è consigliato io personalmente penso però di non giocarlo perché non fa per me A meno che poi non finisca come con Dark Souls che alla fine sono diventato E devi fare la Raidenzione Dipendente da Dark Souls e proseguiamo ragazzi con una chicca veramente ovvero God of War 3 Remastered Uscito originariamente God of War 3 ricordiamo per PS3 io lo giocai lì Ragazzi God of War 3 è un capitolo imperdibile della saga di God of War Della saga di Kratos È uno dei capitoli migliori in assoluto nonché esordio del capitolo su PlayStation 3 all'epoca Quindi possiamo dire assolutamente consigliatissimo Assolutamente straconsigliato Abbiamo anche potere e sapere Sapere e potere Esatto potere e sapere Volevo vedere se eri attento Volevo vedere se eri attento ma non lo eri In realtà ragazzi sapere e potere è uno di quei giochi play link Quindi dovete giocare attraverso lo smartphone Comunque sapere e potere è sicuramente un gioco di quiz Se così si può definire è molto carino Che dicono se è stato migliorato a livello di domande perché inizialmente erano un po' troppo banali È poche È poche Adesso ci hanno assicurato in tanti anche tra voi Che le domande sono aumentate e sono migliorate anche dal punto di vista della difficoltà Quindi noi ve lo consigliamo E poi Here They Lie Allora ragazzi Here They Lie è stato uno dei titoli d'esordio del PlayStation VR Però come tale presentava ancora delle ingenuità per quanto riguarda il sistema Che oggi è stato appunto messo a tal punto Che non causa quello che invece Here They Lie ha tantissimo Ovvero il motion sickness Oltre al motion sickness abbiamo quello che è un thriller psicologico Un horror inquietante, sconcertante appunto anche dal punto di vista del motion sickness Se vogliamo Perché diciamo poteva essere fatto meglio Poteva essere meno banale, poteva essere meno scontato Tutto sommato alla fine è un'occasione sprecata Se a questo ci aggiungiamo anche il malessere derivante proprio dall'utilizzo ancora acerbo dei titoli di lancio del PlayStation VR Diciamo che questo non ve lo consigliamo oppure ve lo consigliamo con riserva Ovviamente dovreste avere il PlayStation VR quindi già tanti si escludono a priori Abbiamo Another World 20th Anniversary Edition per PS3 Ma anche per PS4 e PS Vita Ma è ottimo ragazzi E sarà un'ottima occasione per rigiocare Another World che io giocavo quando ero più bambina Sì ma non ho mai completato perché io mai No assolutamente ragazzi Ma anche perché ero troppo piccola Avevo occasione di giocarci solo saltualmente perché giocavo su Amiga ed era molto difficile Poi abbiamo Cube, la Director's Cut e un rompicapo ovviamente Un passatempo sì Un puzzle game Più che passatempo lo possiamo definire un puzzle game alla stregua di diciamo tutti quelli in cui però c'è un obiettivo Oltre il semplice risolvere il rompicapo Per in questo caso trovare l'uscita In cui abbiamo dei guanti diversi a seconda dei cubi che possono maneggiare Ebbene questo appunto ci deve fare in modo di poterli muovere per poterci far guadagnare l'uscita appunto E Fall Play Sai cosa è Fall Play? No È una sorta di side scrolling beat'em up Cioè una beat'em up a scorrimento orizzontale o laterale che dir si voglia Ambientato in un teatro come se fosse una pantomima Come se fosse una recita Interessante Poteva però essere fatto meglio nonostante l'idea originale In realtà il gameplay risulta un po' stantivo, ridonnante, ripetitivo E tutto sommato con una gamma di mosse non proprio esaltante Quindi non lo consigliamo? Lo consigliamo con riserva E poi abbiamo Sparkle 2 per PS Vita, un puzzle game ambientato in un mondo magico in stile puzzle bubble Molto bene caramide, passiamo agli Xbox Game Sweet Gold ogni volta, ogni mese per la categoria Xbox che poi ormai è anche la categoria PC se vogliamo caramide, se escludiamo appunto Xbox 360 e basta No, perché poi su PC c'è anche Twitch Prime, quindi adesso lì ci arriviamo Ora ci arriviamo, però per la categoria Xbox ne abbiamo due mandate, ovvero Gold e Game Pass Game Pass, su Game Pass andremo rapidi perché saranno delle aggiunte al servizio di abbonamento Adesso invece parliamo del Gold, cosa aggiungono questo month? Abbiamo anzitutto Prison Architects dall'1 al 30 settembre, quindi già da oggi lo potete giocare, anzi da ieri in realtà lo potevate giocare In pratica è un gestionale, uno strategico gestionale, chiamiamolo più o meno, è più un gestionale In cui bisogna gestire, costruire, costruire e gestire la propria prigione Esatto, chi non vuole costruire la propria prigione? Metterci dentro tutti quelli che vi stanno sul cazzo Ebbene, è fatto piuttosto bene, lo consigliamo anche se è un po' dubito della gestione dei controlli con il controller Questo è uno di quei giochi che preferisco su PC Dal 16 settembre al 15 ottobre Live Lock, che è un top down shooter, quindi uno sparatutto visto dall'alto Con la modalità single player e anche quella multiplayer cooperativa Monster World della gamma Sega Vintage per 360, un GDR platform o action GDR Basato sull'universo di Wonderboy, ma con protagonista una ragazza, Asha, con i capelli verdi, poteri spiritici e la fedele scimitarra Xbox Game Pass Finalmente passiamo all'Xbox Game Pass Che noi amiamo, nel senso, nel concetto Nel senso, proprio lo stupido Tantissimo E questo mese vengono aggiunti, come ogni mese, altri titoli Haven Colony, già dal 1 settembre La colonizzazione di un pianeta alieno da parte degli umani per uno strategico basato sulla costruzione E gestione di una civiltà, devo dire, non molto originale come premessa E lo consiglierei con riserva Jonah Sisters Twisted Dreams, platform che nasce come spudorata copia al femminile non autorizzata di Mario Consigliato Halo The Master Chief Collection, già dal 1 settembre Manuel Samuel, gioco in cui dovremo controllare ogni singola azione di Manuel Samuel E con ogni singola azione si intende le funzioni motori, il respiro, tutti i movimenti Insomma, nel camminare e compiere variazioni Ripetitivo, a tratti frustrante, gameplay non smussato On Rush, il 1 settembre Racing Arcade di Codemasters Anche questo ci sentiamo di consigliarlo Quantum Break, ottimo gioco di Remedy Assolutamente consigliato per chi ha una Xbox One non può non averlo giocato Anche per la grafica spaccamascella, non solo, e la voglia di sperimentare da parte di Remedy Oppure su PC Oppure può non averlo giocato che non è un Xbox One ancora Certo Ecco, e può rimediare adesso Può remediare adesso Ah, ah, ah Quando sento che non ridi, poi mi vergogno a riguardare la telecamera Ma è così E velocemente Shadow Warrior, molto consigliato un FPS in cui si usano anche le armi bianche Ne abbiamo parlato a più riprese Sky Force Reloaded, shoot'em up a scorrimento verticale con l'aggiunta rispetto alla versione non reloaded Di elementi poligonali come edifici, quali torri, eccetera Anche questo consigliato Snake Pass come Snake, ma in 3D è molto complesso, quindi consigliato Inner Space alla Journey o Grow Home tra oceani, cieli, eccetera Reschia di diventare annoioso, è troppo simulatore di nulla Quindi consigliato con riserva E passiamo ragazzi al Twitch Prime, attenzione Attenzione, ragazzi, cos'è Twitch Prime? No, attenzione, perché c'è una novità sul Twitch Prime Tu spiega cosa, poi io Vi abbonate al Twitch Prime, che sarebbe anche Amazon Prime Quindi avete tutti i servizi di Amazon Prime, di spedizione in pochi giorni, anzi in un giorno solo Se non vivete in culonia come noi, in Sicilia In un giorno solo, esatto, potete anche abbonarvi ad un canale Twitch Qui è sempre così Ci stanno arrestando Arrestano sempre qualcuno In un canale Twitch, ad un canale Twitch, tra cui ovviamente il nostro Sì, ovviamente, ragazzi Avete Twitch Prime? Abbonatevi a Player Inside Su Twitch, ci trovate come Player Inside TV Perché ci aiutate Ogni mese a supportare il canale, a supportare tutti i nostri progetti Senza alcun costo aggiuntivo ulteriore da parte vostra Che non sia quello già compreso nell'abbonamento di Twitch Prime Esatto, noi vi mettiamo anche il link del nostro canale Twitch Esatto Per abbonarvi a Twitch Prime attraverso il nostro canale Avrete anche tanti altri vantaggi Tra cui, per esempio, il poter avere le emoticon esclusive nostre Poter partecipare al nostro gruppo Telegram in cui interveniamo Ormai, ragazzi, visto che Facebook non lo usiamo quasi più È l'unico gruppo in cui interveniamo con frequenza Soprattutto io, anche se in questi giorni no Perché siamo stati un po' in vacanza, quindi capirete E pubblichiamo foto esclusive lì Per esempio, mandiamo foto come se fossimo degli amici Anche delle anteprime di video, insomma Sì, e si farà sempre di più Perché effettivamente, io ho promesso che si farà sempre di più Quindi, ragazzi, conta questo Il fatto che ci sia poi la pubblicità ogni tanto Durante le dirette di Twitch Non è poi qualcosa di così estremo E poi avete i giochi gratis Esatto Mensilmente per PC Vediamo un po' questo mese cosa fanno Esatto, questo mese abbiamo Adventure Pulse Che è un action adventure con elementi da gioco di ruolo In cui un ragazzino deve sventare la minaccia di distruzione del mondo In sella alla sua giraffa E con il suo fedele piccolo di roccia Questo è consigliato Devo dire, mi ha divertito parecchio L'ho provato per qualche ora Guild of Dungeoneering Un gioco di ruolo a turni In cui dovremo controllare una gilda Consigliato Gunpoint è un puzzle game Stealth Se vogliamo anche con qualche elemento platform Anche questo ci sentiamo di consigliarvelo Strife è un MOBA Tipo League of Legends Ma più frenetico Consigliato E infine Pumped BMX Tipo Trials Fusion Se vogliamo Tipo Trials HD Tipo Trials Rising Che sta per uscire Ma più basato sui trick Ecco, questo non me lo consiglierei Perché a quel punto giocatevi Trials Bene ragazzi Anche questo mese abbiamo fatto il nostro servizio Il nostro dovere Di informazione Riguardo ai giochi gratis del mese Che a voi piacciono tantissimo E dal prossimo mese Si aggiungeranno anche quelli di Switch Oh, che bello ragazzi Sarà bello perché la puntata quindi durerà lievemente di più E per noi significa farci un buccio da culo Più del solito Vabbè, comunque in realtà È molto piacevole ragazzi È una rubrica che si scrive da sola Sia perché tre quarti dei giochi di solito le abbiamo provati Sia perché è comunque un'ottima occasione per scoprire insieme dei giochi E magari seguire i nostri consigli e i nostri sconsigli Su questo o quell'altro titolo Che deve meritarselo Il premio di occupare i giga preziosi nei vostri a disc Già poveri di memoria No? Con i formazzi Con i formazzi E noi da New York Vi ringraziamo Ci vediamo alla prossima Madonna che figa Ciao Ciao